Vorresti sfogliare il nuovo Burda Style di giugno 2021 e scoprire i cartamodelli per confezionare il tuo guardaroba fai da te? Hai voglia di realizzare abiti con pieghe, gonne a tubino, felpe, pantaloncini e scoprire come andare a modificare i cartamodelli secondo la tua forma del corpo e il tuo gusto? Hai voglia di imparare a scegliere il corretto tessuto da utilizzare su tutti i modelli previsti in questa rivista? Pertanto se hai voglia di sfogliare assieme a me il nuovo Burda Style di giugno 2021 sei nel video tutorial giusto! Bentornate cuciamiche e cuciamici della vostra Sara Poiese, socialist ed esperta di cucito. In questo nuovo video andremo alla scoperta del nuovo numero di Burda Style di giugno 2021. Ma prima di entrare nel vivo se per caso tu fossi appena approdato o approdata nel mio canale YouTube ti invito a andare a dare una sbirciata a questi link qui sotto, a questi canali social per collegarti e iscriverti e seguirmi al mio profilo Instagram chiocciola Sara Poiese, la mia pagina Facebook chiocciola Sara Poiese, al mio blog sarapoiese.com dove puoi trovare tanti contenuti di cucito creativo e sartoriale, tanti tutorial, progetti non cuciti, video dedicati agli strumenti di cucito, agli sfogli delle riviste e troverai sempre tanti contenuti interessanti giorno dopo giorno che andranno ad arricchire il tuo cucito creativo e sartoriale. Ti invito anche ad iscriverti alla newsletter qui sotto per poter iscriverti e ricevere le news su tutte le mie pubblicazioni. Non dimenticarti poi le mie dirette live di fine mese perché ogni mese a fine mese potrai beneficiare di un'ora di diretta live con me per avere domande e risposte delle tue curiosità legate al mondo del cucito. Non dimentichiamoci poi la sezione dello shop dove puoi regalare i codici coupon, iscriverti a corsi individuali, partecipare a corsi di gruppo e scoprire i cartamodelli. Ma novità recente alla data della registrazione di questo video ovviamente è la nascita, la pubblicazione della mia seconda creatura per così dire che non è soltanto sarapogliese.com che avete conosciuto negli anni ma dopo tanti annetti ho deciso di aggiungere una nuova piattaforma sarapoglieseacademy.com la piattaforma dedicata all'insegnamento per imparare a cucere online meglio ovunque dove puoi trovare tanti corsi, puoi trovare forum di discussione, puoi scegliere i tuoi corsi dedicati a tante categorie diverse come abc del cucito, cucito creativo, cucito sartoriale, modellistica e tante altre categorie che troverai pubblicabili mese dopo mese. L'iscrizione è semplicissima ti basterà cliccare su iscriviti e acquistare il corso, puoi anche regalare il corso e andare a beneficiare di tantissime sezioni di forum dove poter approfondire assieme alle persone che già hanno scelto e si sono iscritte a queste sewing class potrai pertanto condividere le tue curiosità nel mondo del cucito creativo e sartoriale. Entriamo dunque nel vivo di questo nuovo sfoglio di rivista del Burda iniziamo tecnicamente dalla cover che è una cover molto fresca ed è una cover che ci porta ad iniziare la rivista con l'abito tubino 108. Nelle taglie dalla 36 alla 44 viene proposto in fantasia. Fondamentalmente mi permetto di consigliarvi delle macro fantasie in modo tale che spezzino proprio la figura stessa dell'abito. La macro fantasia va categoricamente scelta in tessuto elasticizzato grazie proprio a queste arricciature nella parte finale che si possono arricciare con un filo elastico anche con una fliselina elastica. È semplice da realizzare se scegliamo tessuti stretch e possiamo anche azzerare l'arricciatura sul fianco. Abbiamo poi la tuta della Bimba 131 nelle taglie dalla 98 alla 122 che consiglio in jersey molto leggeri perché? Perché tutta questa arricciatura va assolutamente realizzata in jersey di cotone o jersey di viscosa leggerissimi mi raccomando. La bottonatura frontale è finta per cui sono solo dei bottoni applicati su un gioco di pieghe di lista bottonatura. Le tasche sono furbissime e le abbiamo anche viste in una mia sewing class dedicata a cucire le tasche. Vi lascio il link alla sewing class qui sotto in descrizione e questa carta modello è veramente super facile da fare anche spezzato. Prendete solo i pantaloni o prendete solo il corpetto. Per la mamma invece abbiamo questa variante di maglietta e il top aderente 114 taglie 36 44 da realizzare in jersey di cotone, in jersey di viscosa, anche in un jersey o comunque in un tessuto elasticizzato sintetico purché sia molto leggero. Perché? Perché torniamo ad avere questa arricciatura frontale e abbiamo categoricamente bisogno di poterla gestire con tessuti leggeri. Bellissima la pensa di dietro che sagoma alla perfezione. La figura va realizzato con delle fliseline per stabilizzare il giro collo. Abbiamo invece a disposizione dei pantaloni slim 103A che sono veramente molto semplici da realizzare. Sono dalla linea decisamente pulita, taglio skinny, si possono realizzare in tessuto fermo come elastico, hanno una linea fuselata e le tasche inserite sui fianchi come abbiamo visto anche appunto nella mia sewing class dedicata alle tasche. Il mio consiglio se non volete fare la patta del pantalone davanti mettete la cerniera zip sul fianco e così abolirete la patta del pantalone frontale. Andiamo invece a vedere l'abito della copertina. È dedicato alle taglie lunghe dalla 72 alla 88 l'abito con balza 107A a questo dettaglio di pieghe nel corpino frontale. Attenzione impariamo anche a dividere bene quest'abito e a scorporarlo. Se noi prendiamo soltanto il corpino e ci abbiniamo una gonna a tubino quest'abito diviene più austero. Se invece lo abbiniamo a questa gonna che è un tubino con le balze sotto l'abito diventa un pochino più frufru. È molto bello pensare di crearci anche solo un corpino smanicato senza manica per dare proprio geometria e risalto a questo corpetto per cui giocatelo anche spezzandolo nel suo modello originale. Versione per bimbe invece l'abito 130 è tipo prendisole come effetto. La gonna è molto ampia, è asimmetrica, la possiamo realizzare in cotone leggero, la possiamo realizzare in jersey. In realtà lo possiamo realizzare anche in tulle, la gondellina, perché possiamo dare un gioco un attimino più fiabesco al progetto. La possiamo realizzare anche in licra se lo volessimo utilizzare come copri costume per portare la bimba al mare e proteggerla maggiormente insomma dai raggi solari rispetto a un blando costumino. La licra può essere davvero una bella soluzione. Indossato anche da Megamark, questo bustier con baschina è stato recentemente indossato da lei in una variante blu e bianca e è caratterizzato da questa lavorazione, da questo moulage di piega nel frontale. Abito da fliselinare totalmente nella parte del bustino superiore, va fliselinato davanti e dietro assolutamente in modo tale che abbiamo sostegno e il mio consiglio personale inserite anche delle stecche nelle cuciture verticali. Giacchina corta 105, taglia 34-42, va fliselinata nel giro collo, non serve fliselinarla nelle spalle perché è un taglio raglan che pertanto starà bene un po' a tutte le figure, attenzione perché è un collo largo, per cui valutate eventualmente di portare in su di un centimetro lo scollo e richiuderlo maggiormente per avere un effetto un attimino più chiuso, un centimetro anche due centimetri, in modo tale che possiate trasformare questa giacca dal collo molto ampia in una giacca dal collo più compatto, più ristretto. Ottimo veramente in tutti i tessuti fermi, leggermente sostenuti per dare un po' di geometria al progetto. Perfetta in micado, perfetto in micado anche il pantalone che sono questi shorts con risvolto, molto belli perché hanno un taglio decisamente maschile, decisamente elegante, taglio pulitissimo, anche qui possiamo andare magari a fare la cerniera zip sul fianco se non volessimo applicare la patta e possiamo creare le tasche a filetto come abbiamo visto nella mia sewing class dedicata a come cucire nello specifico anche queste tasche a filetto. Belli da realizzare, non voto invece molto bene il kimono double face 101 perché viene realizzato in un verso con questo tessuto e giocando sul tessuto double possiamo lavorarlo anche da questo lato. È interessante il fatto che si può profilare un tessuto double o double direttamente con il nastro sbieco, molto bello perché attraverso l'eventuale cucitura all'inglese che si può effettuare nel fianchetto, come avete visto in un mio video tutorial che vi insegna a creare la cucitura all'inglese, lo trovate qui sul canale youtube ma anche sul blog, poi possiamo profilare con lo sbieco un progetto e farlo diventare double o double, chiamatelo come volete, doppio, ok? Doppio verso. Carina, non le do dieci su dieci, la blusa Carmen di 112 è perfetta per l'estate se la realizziamo in mussola, se la realizziamo in lino leggero, se la realizziamo in un lino leggero equivalente proprio a quella cotonina stile patchwork che ci permette grazie anche a microtrame di dare un po' uno stile hippie a questo progetto, progetto che ha le spalline che sono delle fascettine facilmente applicabili, come avete visto in un mio recente video dedicato a come cucire la jumpsuit, andatevelo a vedere sul canale, ha una cover azzurra, mi insegno a realizzare quelle le spalline, dobbiamo categoricamente applicare sliseline su tutte le aree delle scollature, molto più semplice invece la gonna bimba, la 132, abbiamo una fascia da realizzare in cotonina leggera e abbiamo poi un'arricciatura su tutta la gonna perché alla fine è un rettangolo al di sotto della baschina, super super facile da fare, il consiglio sopra in cotone e sopra in tulle oppure sopra in raso se serve per una cerimonia e sotto in tulle un pochino rigido in modo tale da dare volume a questa gonnellina e trasformarla un po' in una gonnellina da principessa che è sicuramente una bellissima soluzione. Andiamo invece adesso a vedere quella che è la giacca drappeggiata, 111A taglia 36 alla 44, questo gioco di sciarpa, di scialle, semplicemente dato dal tessuto molto lungo della giacca, pertanto è proprio cucito nel ripiego del centro della fascia, è molto carina se l'andate a realizzare in tessuti leggerissimi, devono essere tessuti estremamente maneggevoli proprio perché dovete riuscire a dare leggerezza a questo capo, fluidità, ok? Mi raccomando, deve essere un tessuto super leggero e a questo punto mi permetto di consigliarvelo solo ed esclusivamente con la taglia cuci. Dedicato invece alle taglie petite, corte, abbiamo la gonna con volant 115, carina come idea se la realizzate magari in un tessuto a contrasto, dovete utilizzare una seta grezza perché la piega deve essere molto fluente o comunque HD leggeri, devono essere tessuti con i quali il volant possa essere ben gestito, meglio se leggermente elasticizzati perché così si può giocare su una maggiore aderenza sul fianco della gonna stessa, potete farla anche con tessuti fermi ma meglio sull'elasticizzato. Capo super easy, dedicato alle principianti o chi ha voglia di un capo facilissimo, la gonna gode 116b, è facile, è trendy, è una gonna realizzata in jersey, pertanto andiamo bene se abbiamo la taglia cuci, attenzione che se scegliete stoffe con le righe dovete far combaciare nel fianco le righe, attenzione, però è molto facile da realizzare, possiamo applicare un cinturino sia fliselinato ma anche un cinturino con elastico se volessimo proprio una gonna veloce e semplice da indossare. Ritorno alla giacca che abbiamo visto prima, la giacca corta 106, questa volta in variante bianca, vedete come il collo è davvero tanto ampio, io lo dico sempre, potete realizzarla in tessuti pesanti come anche in un bel jersey pesante ma guardate le foto delle modelle perché illustrano accuratamente quella che è la vestibilità del capo, qui abbiamo un collo molto molto largo, può piacere come no, però attenzione guardate le foto in modo tale che riusciate a capire e comprendere meglio la vestibilità del progetto, molto bella anche in felpa in realtà questa perché ha un look decisamente molto sportivo. In questo servizio dedicato proprio a tutta questa moda amare, a questa moda molto easy, abbiamo anche una tuta corta, la 120, perfetta da realizzare in jersey di cotone. Arriviamo verso l'estate per cui il jersey di cotone diventa un tessuto davvero molto utilizzato, bella perché ha una culisse, come avete visto nel mio video tutorial recente di come creare una culisse sulla jumpsuit, abbiamo la scolla a goccia e c'è un video tutorial sul mio canale cercate sarapogliese scolla a goccia e abbiamo l'opportunità di creare un pantalone con l'elastico molto semplice che in realtà guardate che è lo stesso solo che è spezzato degli shorts in felpa a 118. Prendete solo gli shorts, il cartamodello è corredato anche da una lavorazione maggiore nel punto vita degli shorts per rendere più alto il cinturino della vita stessa e in questo modo avete ottenuto una variante corta da farsi in felpa, felpa leggera, in cotone, ma anche perché no in tessutini magari un po' più leziosi come il raso, se volessimo utilizzare un pantaloncino un po' più chic da indossare magari con una scarpettina elegante. Torna la giacca in maglia come abbiamo visto prima nella variante burro panna, questa volta è una variante a righe, è molto carino questo effetto destrutturato che si va a dare alla maglia e onestamente mi permetto di consigliarla anche per le cuciamiche che hanno un seno abbondante perché in realtà tutte queste sagome danno volume a chi ha poco seno però in realtà permettono anche di non far capire bene la fisionomia del corpo nel caso in cui ci fosse un seno abbondante. Torna in variante lunga la tuta che avevamo visto fondamentalmente, hanno preso il corpino, ci hanno messo l'elastico e ci hanno abbinato una gonna che è un rettangolo, quindi vedete come si possono mixare gli abiti e si può creare questa culissa pertanto anche per fare una maglietta in realtà, tagliate la maglia a questo punto e vi diventa una maglia che arriva fino al fianco che la potete indossare tranquillamente con un pantalone, modificate i cartamodelli cercando di conoscerli e comprenderli meglio. Andiamo poi invece a vedere la t-shirt modello facilissimo, basico, modello 121 da realizzarsi in jersey per cui in tessuto elasticizzato, qui serve la tagliacucci, serve la tagliacucci per cucire spalle e fianchi, dovrebbe servire la macchina punto copertura per il girocollo e gli orli però se non avete la punto copertura in caso potete comunque applicare un bordo sulle scollature o potete andare a cucire le scollature con dei punti lunghi magari della macchina per cucire, categoricamente a tessuti elasticizzati. C'è anche una sewing class dedicata alle scollature su sarapoyesacademy.com per cui andate a sberciarla. Abbiamo poi la scelta aderente 109 nelle taglie 36 e 44, qui possiamo pensare di smorzare l'eleganza di questo corpino con un jeans, ecco io queste bermuda righe non le avrei mai messe onestamente però un jeans sarebbero stati un'alternativa bellissima. Ho un pantalone di cotone dal taglio skinny come quello che abbiamo già visto prima, cioè quando avete un volant, una balza, un'apertura nel fianco optate per un pantalone asciutto, ok? Compensate la figura. Arriviamo poi alla versione, spero di non perderla, dell'abito rosa che è un abito strutturato e particolarmente sartoriale. È un tubino a tutti gli effetti, ha solo una variante frontale di manipolazione della sagoma del corpino per creare questa fascia che onestamente io lavorerei a contrasto, perché il bello di questa lavorazione è proprio creare magari un abito blu con la fascia color cipria e creare questo simile effetto nudo. Molto bella, va tutta fliselinata. Ed ecco qui che torna il corpino che ha recentemente indossato Meghan Markle, il bustier con il finto fiocco. È molto bello, vedete, anche in raso, in tessuti satinati, in seta, nel rasone o nel micado di seta o anche nel micado poliestere, perché vedete che sono tessuti che danno sostegno, che possiamo eventualmente abbinare se scegliamo magari un raso che sia anche leggermente stretch. Lo andiamo a fliselinare così non è più stretch, perché diamo una fliselina bella, robusta, che va a rendere sostenuto il capo, ma lo possiamo abbinare ad un raso stretch dedicato al pantalone. Quindi scegliete anche magari un tessuto leggermente elasticizzato, se dovete fare l'abbinamento col pantalone, purché dopo fliselinate bene il corpino e andiate pertanto a dare sostegno e compostezza al top stesso. Questo pantalone l'abbiamo già visto prima, sono i pantaloni aderenti che avevamo visto in precedenza, stessa linea, stesso modello, assolutamente non cambia nulla. Molto carini da fare, penso che li farò per l'estate perché sono perfetti, secondo me, anche come shorts corto per avere un pantalone molto classico. Se abbiamo voglia invece di abiti midi, dobbiamo andare al 113 nelle taglie della 36 alla 44. Qui la cosa bella è che è la stessa canotta che avete visto ad inizio rivista, quella rosa, quella fucsia abbinata alla bambina, semplicemente portata in lungo. È la stessa identica, per cui vedete come si possono modificare i cartamodelli in modo veramente intuitivo e semplice. La portate lunga, la svasate tanto e qui decidete la lunghezza del vostro abito in base alla vostra preferenza. Volete fare un abitino per l'estate? Onestamente io lo taglio al ginocchio, cioè faccio in modo che l'abitino risulti poco più alto del ginocchio da indossarlo con un sandalino. Scelgo un jersey, scelgo anche un tessuto magari un po' paiettato, purché sia sempre leggermente stretch. Torna nuovamente la stessa gonna col volant color senape che avevamo visto prima. Vedete che anche qui il tessuto è leggero, si opta per raso, seta lavata, si opta per tutti i tessuti anche cangianti, purché siano leggeri, fluenti e che permettano a questo volant di lavorare in maniera fluida. Potete sostituire il volant con un volant di tulle eventualmente o con un volant di chiffon. Se realizzate magari la gonna in raso e il volant in chiffon per ottenere un effetto decisamente elegante. Viene riproposto l'abito della copertina, il 107B, in variante Total Red, molto bella questa lavorazione incrociata del corpino. Io l'apprezzo particolarmente, trovo che sia fantastico da realizzarsi in tessuti anche molto vistosi, cioè dobbiamo usare sul rosso su una macro stampa, perché questo realizzato magari in classico nero non renda la stessa maniera, però la lavorazione del corpino dà tanto lavoro, ma porta una gran soddisfazione e ripeto, io lo farei senza maniche. Abbiamo un pantalone facilissimo, che altro non è i pantaloni sete età V117, una simile linea dei pantaloni corti che avevamo visto, però è un pantalone più largo questo, molto bello, molto semplice da fare, perché ha le tasche invisibili sul fianco, come abbiamo visto nella mia sewing class delle tasche. Sta tornando spesso la sewing class delle tasche, ed è veramente una scelta di utilizzo, la tasca, che ci torna davvero molto, molto, ma molto utile. Realizzatele anche in jersey o in sete leggerissime, perché tanto l'importante è, come per la gonna midi, andare a scegliere tessuti leggeri e fluenti. È la stessa gonna che avete visto a righe, bianca e nera prima, la 116A, con la differenza che in questo caso è stata realizzata in un tessuto un attimino più laminato, per così dire, un tessuto un attimino più rigato, che si presta alla perfezione, alla scelta magari di abbinarlo ad una magliettina nera. Gonna facile, ripeto, potete inserire tranquillamente anche l'elastico in vita. Viene riproposta la gioca a kimono, che avevamo visto all'inizio della rivista, quella lunga, in tessuto dubble, che potevamo lavorare dritta o rovescia. Questa volta viene proposta in un monotessuto, sempre con l'applicazione dello sbieco. Attenzione che potete cambiare la scelta di lavorazione di questo materiale, optando anche per dei tessuti un attimino più invernali, pertanto potete optare anche per una lanetta leggera, che vi permetta di andare a scaldarvi tecnicamente anche la schiena e le spalle. Bella questa lunghezza, anzi la prezzo molto di più della lunghezza precedente. Torniamo invece alla rivista con il servizio dedicato alla moda curvy. Moda curvy che ripropone le righe, righe in verticale, mi raccomando, come ho fatto anche io nella mia recente pubblicazione del video su come cucire una jumpsuit, riga verticale per piacere, non orizzontale perché ci allargano. La cosa bella di questo abito a valse è che avendo tutte queste arricciature spezza la figura anche se lo lavoriamo a righe o se decidiamo di lavorarlo in tessuti a contrasto. Cotoni leggeri comunque, lini, cotoni, mussole. Lo stesso può valere per l'abito scollato, cotoni leggeri, mussole, a condizione che andiamo a fliselinare lo scollo davanti e l'incavo manica e diamo un attimo una fliselinata a quella che è la striscia della spalla, della schiena dietro, la striscia diritta che troviamo adesso, la vediamo dal disegno tecnico, eccola qui che andiamo in retro, dobbiamo andare a dare una fliselinata e la spallina la possiamo cucire come nel mio video tutorial dedicato alla realizzazione della jumpsuit che trovate sul canale. Stesso modello, la casacca con balza 128 è identica, è la stessa cosa, è solo più corta rispetto a questo modello qui, ok? Stessa identica progettualità, va bene? Solo che è più in corto, pertanto valgono le stesse scelte di tessuti, leggeri, mussole, prodotti veramente fluenti e cascanti sia in tinta unita che in tinte stampate. E abbiamo poi la lavorazione del gilet con le tasche che questo secondo me è veramente un gran bel passepartout, non sottovalutatelo, il gilet con tasche 129B ha un'ottima vestibilità grazie alla culis con l'elastico dietro, è un monobottone per cui davanti è comodissimo da portare anche se abbiamo tanto seno, perché se chiude solo con il singolo bottone possiamo mutarne la vestibilità stringendo di più o di meno l'elastico che andiamo a mettere nella culis e questo rende il progetto decisamente facile da lavorare e particolarmente fruibile veramente alla portata di tutti. Abbiamo poi la tuta con pantaloni, adoro le tute, lo sapete, se volete applicare l'elastichino a questa tuta tornate nel video tutorial dedicato alla jumpsuit e se volete applicare le tasche tornate nella sewing class dedicata a come cucire le tasche, ma poi ve lo faccio vedere. Bellissimo in lino, questo ve lo straconsiglio in lino, in cotone leggero e anche in cotone da camiceria, ma il lino o il jeans leggero leggero è veramente la scelta ideale, perché deve essere un tessuto molto fluente da gestire il pantalone largo e al tempo stesso coprente. Possiamo utilizzare invece tessuti elastici per l'abito diritto, attenzione a questi abiti diritti, attenzione, perché è molto bello lo scollo a V lavorato con la spallina, con l'orlo della manica lavorato così, però occhio a scegliere tessuti che vi sfinino, che vi valorizzino e non che rendano geometriche, eccessivamente geometriche le vostre figure. Io avrei optato magari per inserire un cinturino molto morbido, un cinturino finto, però avrei preferito mettere un cinturino. La stessa variante viene proposta in maglietta, manica corta, sulla shirt con collo ad intreccio, è lo stesso identico stampo ragazzi, è solo che è stato fatto più corto e che vi permette attraverso un jersey di cotone o un tessuto molto molto leggero, come un jersey di viscosa, di andare ad avere una t-shirt molto comoda per l'estate con la manica raglan, che pertanto non segna mai la spalla e ci permette di lavorare in maniera pulita e anche facilmente sdefettabile la vestibilità del nostro progetto. Torna il gilet che abbiamo visto prima, in una variante di un colore semplicemente diverso, abbiamo inserito le tasche, eccole qui, invisibili in cucitura che sono veramente praticissime, questo gilet è messo più corto e grazie al gioco dell'elastico possiamo andare a scegliere come personalizzare la larghezza, l'ampiezza del nostro progetto e in questo modo possiamo pertanto personalizzare alla stragrande del nostro progetto anche appunto con l'ausilio delle tasche, infatti se torniamo su sarapoiese academy.com nella sezione dedicata ai corsi trovate la solo in class disegnare e cucire le tasche, ci sono ben 12 lezioni inserite, trovate tutte le lezioni già elencate e pertanto potrete trovare già tutte le tasche che andremo a realizzare, ovviamente non potrete vederle fin tanto che non avete effettuato l'iscrizione a questo corso, ma vedete quante tasche ho inserito in questo corso e potrete altresì vedere un'introduzione del corso stesso direttamente cliccando video scopri la sewing class, infatti questo contenuto è gratuito e vi serve proprio per andare a vedere quello che è poi il contenuto di tutto il corso, un corso che vi resterà disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, comodamente a casa vostra in totale e completa sicurezza. Bene abbiamo sfogliato anche questa rivista di Burda Style giugno 2021 per cui spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel pollicione alzato per supportare questo video, per farmi capire che vi è piaciuto e che ne desiderate tanti altri. Un abbraccio sartoriale dalla vostra Sara Poiese